E arrivano anche gli amici di Urbino per accendere l'allegria di un pubblico fanese e non solo. Assolutamente sì, è una commedia molto divertente, una commedia brillante, tratta da una commedia di George Feidot, ovviamente in dialetto urbinate, ed è un crescendo di comicità, tutto incentrato su questa figura femminile che interpreto io, che è una moglie di un politico molto disinibita, una persona molto, diciamo, maliziosamente ingenua, che gira per casa in sottoveste allegramente e questo fa infuriare ovviamente il marito, perché lo fa anche davanti al cameriere, davanti al figlio, eccetera, eccetera. Ma è un crescendo davvero di risate perché gli imprevisti in questa commedia saranno uno dietro l'altro, e quindi il divertimento è assicurato.